Sarai, Teens Digital Radio Ci troviamo ancora a Radio Sarai, Teens Digital Radio e abbiamo con noi in GLO come ospite, sempre per una fantastica intervista il Presidente dell'Osservatorio per la Legalità e la Sicurezza della Regione Lazio Incominciamo già con qualche domanda Puoi spiegare ai nostri radioascoltatori qual è appunto il lavoro che ha l'Osservatorio l'Osservatorio della Sicurezza e della Legalità della Regione? Sì, l'Osservatorio regionale sulla Sicurezza e la Legalità è una struttura di supporto alla Giunta regionale composta da varie competenze Ci sono dentro l'Osservatorio rappresentanti delle forze di polizia, della Prefettura, delle forze sociali e serve per aiutare la Giunta regionale a fare politiche in direzione della Sicurezza e della Legalità Ok, grazie Allora, io invece adesso le voglio riportare una frase Quando si sogna da soli è solo un sogno ma quando si sogna insieme è l'inizio della realtà Quindi, secondo lei, un festival come questo che riesce ad unire tante persone ha poi un riscontro concreto in quella che è la quotidianità? Io credo che è un auspicio fondamentale Noi a Roma siamo alle prese con una presenza radicata, invasiva delle mafie e le mafie si combattono dando fiducia, sostegno alla magistratura e alle forze di polizia che in questa città fanno un'azione straordinaria ma le mafie si combattono se costruiamo nella società delle reti, delle sinergie tra le istituzioni e le associazioni serve in qualche maniera a Roma costruire un'antimafia del noi nessuno da solo può farcela quindi mettere assieme la buona politica, la buona economia la responsabilità civile delle associazioni del terzo settore è fondamentale per costruire una cultura della legalità e costruire anche un sostegno consapevole alle forze di polizia e alla magistratura Ed un'ultima domanda a tal proposito Qual è secondo lei un gesto che tutti dovrebbero fare per mantenere uno stato di legalità all'interno della propria città e dunque anche del proprio paese? Beh, i gesti sono fondamentali l'esempio, i gesti, il rispetto delle regole la costruzione di quella consapevolezza a partire anche dalle scuole la consapevolezza che non ci sono scorciatoie quindi imparare ai ragazzi la fatica del raggiungimento degli obiettivi che non ci sono scorciatoie e poi serve la responsabilità civile di denunciare gli usurai, di denunciare gli estorsori noi dobbiamo far sentire i commercianti, gli imprenditori che sono costretti a subire le estorsioni di farli sentire meno soli e quindi recuperare il coraggio civile di denunciare, denunciare, denunciare gli estorsori e gli usurai Insomma, bisogna liberarsi da questa omertà che è spesso prima la gente Esatto, bisogna liberarsi dall'omertà e costruire una responsabilità condivisa ognuno dalla propria collocazione che occupa e sapendo che solo insieme possiamo restituire a questa città l'orgoglio, la rinascita delle classi dirigenti e soprattutto l'orgoglio affinché di Roma si parli come la capitale della legalità la capitale del rispetto delle regole Quindi speriamo che questo avvenga in Conto Italiano insomma, sarebbe un augurio forse dei migliori È un aspicio che dobbiamo condividere con la fatica di costruire queste relazioni Certamente, certamente Noi la ringraziamo moltissimo e le chiediamo di salutare la nostra radio che è Star iTunes Digital Radio Ciao, grazie a tutti e buon ascolto